Non farò giri di parole. I tacchini sono stupidi. Molto stupidi. Non capite! Ci mettono all'ingrasso per mangiarci! Ehi, my spice! Ci vediamo, Reggie! Dai produttori premi Oscar per Shrek. Siamo qui per una delle tradizioni presidenziali che preferisco. La grazia al tacchino nel ringraziamento. Sta tranquillo, sei al sicuro. Fa tanto sonno. Ecco la tua nuova casa! Pizza! Sì! Non potrebbe andare meglio di così. Salve, soldato! Qualunque cosa succeda, non fare rumore! Sei stato reclutato per una missione top secret. Ma di che stai parlando? Torneremo indietro nel tempo per fare in modo che il tacchino non entri nel menu. Scusa, a chi lo dici? A questo tipo qua. Ha capito perfettamente. Vedi? Fa sì con la testa. Il 28 novembre. Una mappa! Mica avranno scritto macchina del tempo su... Ah, sì, l'hanno scritto. Rilevata contaminazione. Ricevuto. Di che tipo? Tacchino. Come lo trattiamo? Con sassa di mertilli. Procediamo. Vieni qua! Ma non, aspetta! Destinazione 1621. La nostra missione non è salvare dieci tacchini. Benvenuti. Ma tutti i tacchini. Oh, vuole che li rigurgiti un po' di vermi in bocca. Cosa? Prenderò quei pennuti. Non mi sfuggirete! Nemico in arrivo! Combatteremo insieme! Cosglierà! Per il branco! Il menu della storia. Qual è il piano? Grazie alla mia incredibile tonicità muscolare ti lancerò oltre il muro. Vai! Divertente. Feverse. Tacchini in fuga. Basta lanciarmi in giro. Vedi questa linea? Non devi più invadere il mio spazio personale. Non hai visto la linea? Perché mi sembrava di... Dal 28 novembre al cinema. Non hai visto la linea?